Questa campagna elettorale sta volgendo al termine, la data del voto si avvicina ed è importante quindi fare un ultimo appello a tutti gli elettori della nostra città. È stato un mese e mezzo intenso, abbiamo girato ogni centimetro della nostra realtà per parlare ai nostri concittadini e portare avanti la nostra proposta programmatica, una proposta programmatica che consta di 10 punti di cose realmente fattibili, che partono dalle piccole cose, da quelle più necessarie ed immediate a quelle più grandi. Pensiamo all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione di Bucaletto che da troppi anni aspetta una risposta, al miglioramento dei trasporti e della viabilità per le zone rurali che per tanto tempo sono state considerate zone di serie B. Noi abbiamo intenzione di non lasciare indietro nessuno. Tutte le zone della città avranno pari dignità dal centro storico alla più estrema periferia, ma guarderemo anche con attenzione allo sport, alla sicurezza, al trasporto pubblico locale e alla cura del verde, alla riqualificazione delle aree degradate, perché riteniamo che Potenza debba essere innanzitutto una città normale. Il nostro appello lo rivolgiamo a tutti i potentini, a tutti i moderati, a tutti i cattolici, ai quali chiediamo un ultimo sforzo il 9 giugno per portare quanta più gente possibile a votare e finalmente dare al governo comunale della nostra città un governo che abbia lo stesso colore politico di quello regionale per riappropriarci insieme del ruolo di città capoluogo.